Ce ne va un pezzo di storia, un pezzo della nostra vita, per me forse più che per tanti altri ha rappresentato un momento che ha segnato profondamente il mio percorso politico, anche personale, quando nel 2010 insieme a lui ho vinto una campagna elettorale che sembrava ormai persa a tavolino. Soltanto lui in quel momento ha creduto che insieme potevamo farcela anche senza la lista che, come ricorderete, non fu presentata. Abbiamo fatto una campagna elettorale allora straordinaria che ci ha tenuto legati per sempre. Sicuramente alla fine di un'era, forse da un po' di tempo tutti ce l'aspettavamo, perché comunque anche la malattia stava dando dei segnali importanti e tutti abbiamo creduto che questa giornata prima o poi sarebbe arrivata, speravamo tutti dopo. Sicuramente si chiude un'era. Non si chiude la fase del berlusconismo perché tanti di noi, con lui che è stato un maestro di scuola, importante per tutti coloro che hanno fatto politica in Forza Italia, continueremo a combattere per le idee che abbiamo condiviso con lui.